Un caro saluto a tutti, ringrazio di cuore Monsignor Pierantonio per l'amabile saluto. Sono contento di questo invito che mi ha portato a ragionare e a condensare un po' di considerazioni sulla omelia. È un argomento che mi sta a cuore anche se non appartiene propriamente al mio ambito di insegnamento. Tuttavia è un modo, forse il modo fondamentale, con cui la Sacra Scrittura incontra la nostra vita. È il titolo che il vostro Vescovo ha dato alla lettera pastorale ed è importante sottolineare questo aspetto dell'incontro. La parola di Dio incontra la nostra vita. L'omelia è uno strumento con cui è possibile che questo incontro avvenga. Noi ne siamo ministri. Non facciamo un discorso semplicemente sull'omelia in astratto, ma parliamo fra presbiteri, che abitualmente tengono omelie. E quindi riflettiamo sul nostro ministero. Ci diceva Don Marco che è recente questo uso così frequente dell'omelia. soprattutto il fatto che tutti i preti siano impegnati nell'omelia. Perché una volta esistevano i predicatori che venivano invitati per le novene, i tridui, le grandi celebrazioni. Con il concilio Vaticano II si è, per fortuna, compreso che non è un compito speciale di qualcuno, ma è il ministero di tutti. L'espressione ministri della parola deriva dal prologo del Vangelo secondo Luca che presenta il metodo seguito dall'Evangelista per stendere quel testo ordinato che offre all'eccellentissimo Teofilo. Dice che all'inizio, dopo l'evento di Gesù, è stato fondamentale il compito dei ministri della parola. Proprio servitori del logos, che hanno permesso a quel logos fatto carne di essere trasmesso, comunicato, diffuso ad altri. Quel ministero è funzionale, non è un titolo onorifico. Se pensiamo all'inizio, è stato indispensabile che i testimoni oculari e auricolari trasmettessero ad altri quello che avevano sentito e visto. Se non avessero fatto questo servizio di mediazione, l'evento di Gesù sarebbe rimasto sconosciuto. Hanno trasmesso oralmente la loro esperienza e hanno condensato in forme particolari il messaggio di Gesù. E da questo ministero della parola è nato il testo scritto del Nuovo Testamento che diventa normativo. E' una rivelazione attestata che si offre a noi attraverso un testo che ci viene proposto nella liturgia. Viviamo una stagione della storia della Chiesa che, nonostante tutti i problemi che possono esserci, ha dei vantaggi enormi. La riforma liturgica ci ha offerto delle possibilità straordinarie. Le abbiamo viste come indicazione fondamentale e le viviamo, le diamo quasi per scontate. Però il fatto di avere un lezionario biblico inserito nella celebrazione liturgica dell'Eucaristia e anche degli altri sacramenti è un fatto nuovo, straordinario. È sempre stata letta la Bibbia, ma in modo decisamente inferiore, senza un grande ruolo. Il lezionario che abbiamo fra le mani è il più bello, infinitamente più bello, degli ultimi duemila anni. Quello che sarà in futuro non lo sappiamo ancora, ma nei duemila anni che conosciamo abbiamo tra le mani lo strumento migliore che ci sia mai stato. Abbiamo la possibilità di avere nel Bronx, come a Varazze o a Brescia, lo stesso schema liturgico di letture, con una scelta davvero intelligente, che potrà anche essere migliorata, è vero. Però, rispetto a quel che c'era prima, il passaggio all'attuale lezionario è infinitamente superiore. Abbiamo un tesoro fra le mani che deve essere vissuto. Il problema della riforma è che deve essere incarnata nella realtà e quel tesoro deve essere apprezzato. L'omelia è un modo per valorizzare la parola di Dio, cioè per dare valore, per renderla efficace nella vita della nostra gente. Abbiamo un potenziale enorme. Pensate, anche solo in Italia quante persone tutte le domeniche partecipano ad una liturgia analoga. Sono milioni, anche solo con il 10% della popolazione, abbiamo circa 6 milioni di persone che leggono le stesse parole, meditano le stesse parole divine e pregano partendo da quelle parole. Nessun'altra organizzazione ha una struttura così capillare. Dal pontificale del Papa all'ultima chiesetta di montagna viene annunciata quella parola. E noi, ministri della parola, diventiamo strumenti perché questo messaggio tocchi la vita delle persone. Noi siamo strumenti e uno strumento deve funzionare. Vi sarà capitato qualche volta col telecomando di schiacciare e di notare non funziona. ti accorgi che non funziona perché non succede niente. Tu schiacci ma non cambia canale. Non funziona. È uno strumento inutile. Forse i più giovani non si ricordano che bisognava alzarsi per andare a cambiare canale o accendere il televisore. Adesso lo facciamo a distanza. Ma se lo strumento non funziona non serve a nulla. Ora, l'omelia non può tendere al successo. Non è il discorso che deve attirare l'acclamazione delle folle. Ma all'efficacia sì. Cioè deve funzionare. proprio perché è un servizio alla parola. Deve trasmettere la parola. Deve ottenere un risultato. Se è un elemento inutile che non serve a niente lo si lascia perdere. Abbiamo nelle orecchie quella formula del Vangelo di Luca dove siamo qualificati come servi inutili. Non mi piace la traduzione inutile perché non rende assolutamente l'idea. La citano in molti sempre per dire che contano poco. Fa parte della ipocrisia ecclesiastica. È la falsa umiltà che ci riempie la bocca nei discorsi. ma se ce lo dicesse un altro ci offenderemmo a morte. Non è questione di inutilità. Io tradurrei senza pretese. Siamo servi senza pretese. Chi di voi se ha un servitore quando arriva a casa lo fa sedere non gli dice piuttosto preparami da mangiare poi mangerai anche tu. Allora voi che avete un signore che si cinge e vi serve cosa pretendete ancora? Quando avete fatto tutto dite siamo fortunati ad avere un signore così. Siamo servi che non hanno pretese. Non pretendiamo niente perché sappiamo che ci dà di più di quel che ci meritiamo e che ci aspettiamo. Allora in questo senso non è che il nostro servizio ministeriale sia inutile perché è dispregiativo è senza pretese non pretendiamo di comandare di dominare di mettere nella testa della gente le nostre idee o di costringerli a fare qualcosa no ma vogliamo comunicare la parola e questo deve toccarci proprio come partecipi della missione apostolica dopo duemila anni noi con tutti i nostri limiti siamo ministri della parola servitori del logos di Dio ed è un compito importante che il servizio funzioni pensate in quante situazioni diverse dal ristorante al cinematografo potremmo lamentarci che il servizio non funziona siamo serviti male il nostro compito di ministri della liturgia deve funzionare bene deve essere curato perché possa essere efficace perché possa funzionare perché la parola che noi abbiamo ricevuto e che apprezziamo possa essere trasmessa agli altri la predicazione liturgica quindi si inserisce nella celebrazione dell'eucarestia e come già stato detto ripetutamente chiede che il predicatore sia fedele a tre realtà il vostro vescovo parla di una triplice fedeltà alle letture all'assemblea alla celebrazione è necessario ricordarci che stiamo celebrando ed è già stato detto ampiamente e bene da Don Marco nella celebrazione si inserisce anche il momento della omelia che deve rispettare l'assemblea deve tenere conto concretamente delle persone che ha davanti e deve rispettare le letture perché l'omelia è un discorso familiare è un termine greco come tanti altri che abbiamo desunto dalla tradizione si adopera proprio nel brano dei discepoli di Emmaus quei due che parlavano insieme delle cose accadute è detto in greco col verbo omileo stavano facendosi la predica vicende cioè raccontavano ricordavano i fatti avvenuti poi li raccontano a Gesù e Gesù dialoga con loro invitandoli a ripensare a tutto in un modo diverso quella scena dei discepoli di Emmaus nella prima parte mette davanti a noi l'omelia la liturgia della parola come un discorso fraterno sul ripensamento delle scritture alla luce di quel che è capitato a noi stupidi e lenti di comprendonio partite dalle scritture non doveva capitare così e partendo dalle scritture riscalda il cuore quella è l'omelia un colloquio fra amici alla ricerca del senso di quello che sto vivendo partendo dalle scritture quindi l'idea fondamentale è che l'omelia serve la comprensione del testo biblico credo che il linguaggio del servizio sia molto importante e dobbiamo valorizzarlo e ripeterlo in questo contesto non è un servizio solo quello delle mense della carità sociale è un servizio anche quello liturgico adoperiamo questa terminologia ce lo ricordiamo dagli anni del seminario chiedi servizio si fa servizio in cattedrale preparare il servizio liturgico entra nel linguaggio dell'essere servo io come predicatore sono servo della parola di Dio è un titolo onorifico ma chiede che sia funzionale vuol dire che la parola di Dio è signora che la parola annunciata in quella domenica comanda me non io comando lei perché arriviamo anche al paradosso di qualcuno che cambia le letture perché non corrispondono a quel che vorrebbe dire è un'esagerazione che mette in evidenza lo sbaglio non sono io che comando ma io sono servo della parola quella liturgia che mi è stata proposta è la mia signora il tesoro del lezionario deve essere valorizzato e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è conoscere bene il lezionario abbiamo studiato durante la preparazione in seminario la sacra scrittura che è una preparazione di base e chiede continuamente una nostra formazione ulteriore il lezionario lo studiamo di pratica forse non l'abbiamo mai affrontato seriamente sarebbe invece molto importante che un predicatore avesse il quadro delle scelte liturgiche delle letture per rendersi conto del cammino che viene fatto se non se ne rende conto il presidente dell'assemblea è impossibile che se ne rendano conto i fedeli chi ha pensato il lezionario ha usato dei criteri molto intelligenti ma superiori alla nostra capacità e alla nostra memoria vi faccio un esempio tutti gli anni nel tempo ordinario dopo l'epifania si legge come seconda lettura la prima lettera ai Corinzi gennaio e febbraio sono sempre segnati dalla prima lettera ai Corinzi nell'anno nell'anno A i primi cinque capitoli nell'anno B dal 6 al 10 nell'anno C i rimanenti cinque quando nel gennaio successivo riprendiamo le letture ci ricordiamo che avevamo letto l'anno scorso a gennaio i primi capitoli della prima lettera ai Corinzi impossibile ma neanche lontanamente ce ne accorgiamo noi figuriamoci la gente allora questo divario deve essere colmato se uno ha in testa che c'è questo schema riesce a impostare meglio il servizio dell'omelia quindi avere non solo l'idea che quest'anno leggiamo soprattutto Luca ma come leggiamo Luca il criterio della lezione continua del terzo Vangelo è una idea importantissima è una novità assoluta abbiamo nei tre anni liturgici la scelta dominante di uno dei Vangeli Sinottici mentre il Vangelo di Giovanni viene proposto in altri tempi ma l'ordine delle pericopi lucane che stanno segnando le nostre domeniche del tempo ordinario hanno una logica sono state scelte con un criterio avere il quadro delle proposte mi aiuta a tenere conto di un progetto più ampio perché ognuno di noi predica generalmente alle stesse persone alla stessa assemblea per anni interi quindi c'è un itinerario formativo il rischio è che l'omelia sia ogni domenica un fatto a sé mentre il lezionario è pensato per un itinerario stiamo leggendo i brani secondo Luca del viaggio verso Gerusalemme dieci capitoli in cui l'evangelista mette delle catechesi itineranti di Gesù su questioni diverse ad esempio avere in mente questo fatto potrebbe dare un filo logico siamo in cammino con il maestro una domenica ci parla di misericordia una domenica ci parla di economia una domenica ci parla di umiltà però c'è un filo è il filo che Luca ha cucito per tenere insieme se io ho presente che di domenica in domenica gli argomenti cambiano ma c'è un filo conduttore io tengo il filo e aiuto chi mi ascolta a tenere il filo perché abitualmente invece nei discorsi si perde il filo non si sa più dove si stia andando a Luca interessa molto il tema del viaggio del camminare insieme a Gesù la scena dei due di Emmaus riprende quello che era avvenuto prima Gesù cammina con i suoi il tema del sinodo in sostanza è questo si fa sinodo con Gesù ascoltando da discepoli quello che il maestro ci sta insegnando il fatto di avere un brano di antico testamento che è legato al Vangelo e un salmo scelto proprio in collegamento al brano della prima lettura e al Vangelo e una seconda lettura che invece è lezio continua deve essere valorizzato perché l'intento è quello di mostrare l'armonia dei due testamenti e nello stesso tempo un percorso di maturazione di crescita fino al compimento della rivelazione di Gesù è quello che si chiama la Bibbia liturgica è un tema molto importante molte persone vorrebbero leggere la Bibbia non si comincia dalla Genesi per arrivare all'Apocalisse la strada migliore per leggere la Bibbia è quella liturgica e la sapienza di molti esperti che hanno lavorato davvero bene ha messo insieme un patrimonio immenso di testi di tutti i libri biblici insieme in modo organico c'è talmente tanto che rischiamo di perderci però il fatto che ci sia tanto non ci deve spaventare ma ci deve portare a organizzare bene l'insieme per poter dire qualcosa sul tanto che è a disposizione ci sono alcuni errori abbastanza diffusi davanti alla Bibbia che devono essere evitati nelle omelie e qui il problema è quello della preparazione del predicatore sul testo biblico da una parte ci sono alcuni che sono rimasti a vecchie idee e allora presentano come storici testi che non sono storici io ho nelle orecchie due frasi di vecchi parroci isaia Isaia, settecento anni prima di Gesù, sapeva già tutto e vedeva già la nascita, la vergine, il bambino, settecento anni prima già li vedeva. Io ero chirichetto, ma mi ha fatto impressione, mi è rimasta impressa come frase. Poi quando ho studiato, ho detto, povero uomo, la cito sempre dicendo, Isaia, settecento anni prima non sapeva niente. Però quella predica ha fatto effetto. L'altro parroco della parrocchia vicina mi ricorda un'epifania che dice, stiamo ai fatti storici. Sono arrivati dodici giorni dopo, erano tre ed erano re. Stiamo ai fatti storici. Questi sono problemi seri perché diamo delle informazioni sbagliate, trasmettiamo nozioni scorrette. E potremmo fare una carrellata infinita di cose sbagliate che vengono dette. E quindi un buon servitore, prima di parlare, deve rendersi conto di quello che dice e di non dire cose scorrette. Dall'altra parte c'è l'esagerazione del, ma non so mica vere queste cose, ma è tutto un genere letterario. Una vignetta francese dell'angelo Gabriele che entra da Maria dicendole, non temere Maria, sono un genere letterario. Queste cose sono inventate. Ho finito di leggere un recentissimo testo sul Vangelo di Giovanni di un ottantenne benedettino che tranquillamente dice tutto inventato. Giovanni non era uno degli apostoli, chi ha scritto era un discepolo di quello lì che non era uno degli apostoli. Alla fine del secolo per farsi accogliere dalla chiesa Petrina ha scritto per far vedere che il suo maestro ne sapeva e quindi inventa tutto. Tanto erano morti i primi testimoni e quindi le nozze di cane, tutto è inventato. La risurrezione di Lazzaro, non è successo niente. È un'invenzione completa. Di fronte a queste posizioni diventa pericolosa la predicazione perché abbiamo quelli che danno per storico anche i giorni della creazione e quelli che danno per inventato anche la risurrezione di Lazzaro. E quindi il lavoro del predicatore che deve muoversi fra queste esagerazioni è serio. Per cui nella comunicazione col popolo dobbiamo essere molto prudenti e non esagerati né da una parte né dall'altra. La comunicazione del messaggio biblico non è lezione biblica, non è un corso di esegesi, non è una catechesi, ma è una applicazione alla vita del messaggio. E io devo averlo capito bene. Dobbiamo stare attenti alle interpretazioni personali o alle interpretazioni particolari di qualcuno che lancia delle ipotesi. A me piace immaginare che non mi importa quello che a te piace immaginare. È importante stare al testo a quello che dice il testo. Dobbiamo comprendere il senso dell'autore. Dobbiamo capirlo e trasmetterlo. Un errore abbastanza comune è quello della semplice parafrasi. Quando si era cominciato a predicare, anche prima del concilio, quando si leggeva ancora il Vangelo in latino, il compito dei parroci era quello di tradurre il racconto letto in latino. E allora, le prime forme di predicazione popolare erano il racconto del Vangelo. Abbiamo letto un testo in una lingua che non avete capito, ve la racconto. Ma adesso lo leggiamo in italiano. E se lo leggiamo bene, la gente non è stupida, ha capito. Raccontare di nuovo la parabola del figlio al prodigo è inutile. La sanno a memoria. L'hanno appena sentita letta. È inutile che la racconti di nuovo. Non è quella la predica. Di fronte alla parola di Dio annunciata dobbiamo porci tre domande. Erano state precisate in quel documento di Benedetto XVI che è stato letto prima. Che cosa l'autore del testo ha voluto dire? Qual è il senso del testo? Nel suo contesto richiede studio. È inevitabile. Non posso immaginarmelo o inventarlo. Devo domandarmi seriamente che cosa voleva dire Amos in quel momento, in quell'oracolo. Devo capire io che cos'è l'EFA e cos'è il ciclo. Che cosa vuol dire comperare il povero per un paio di sandali. È un'espressione poetica ma non di facile comprensione. Se io non la capisco devo cercare, devo trovare degli strumenti per poter capire che il contadino ridotto in difficoltà economica finiva per vendersi come schiavo e poteva avere un debito pari al prezzo di un paio di sandali. E non avendo da saldare doveva vendersi come schiavo. Quindi è un discorso contro i proprietari terrieri che sfruttavano e schiavizzavano i contadini. Quando io ho capito il contesto e il senso dell'autore pongo la seconda domanda. Che cosa dice a me personalmente questo testo? E qui si pone la mia meditazione. Lo sbaglio che abitualmente facciamo come predicatori è quello di chiedere che cosa dico alla gente? Mentre è fondamentale che prima io mi domandi che cosa dice questo testo a me? Perché questa è per me. la terza domanda è che cosa posso trasmettere alla mia gente in questo momento a quella gente concreta che verrà a messa? Non sto parlando al mondo intero sto parlando a quelle persone. L'omelia infatti deve servire alle persone che ascoltano. È necessario che entriamo in collegamento con quelle persone perché l'omelia appartiene al genere della comunicazione. Dobbiamo comunicare. Vi suggerirei proprio un lavoro penitenziale di interpellare i vostri ascoltatori quelli più cari quelli più vicini quelli che vi vogliono più bene chiedendo che cosa ricordano della vostra predica che cosa apprezzano che cosa non apprezzano chiedendo proprio che facciano un ritorno del vostro messaggio. E qui ci poniamo di fronte al problema serio della retorica. Un proverbio latino diceva poeta nascitur orator fit. Poeti si nasce oratori si diventa. E quindi il poeta ha delle doti di natura particolari se uno non ce l'ha non ce l'ha ma l'oratore si fa si può diventare più capaci di questo. Nelle nostre scuole di seminario di teologia c'era fino ad un certo punto la scuola di retorica l'insegnamento di sacra eloquenza. poi era talmente degenerato ridotto a fiori barocchi che era diventato negativo tant'è vero che nel nostro linguaggio corrente il retorico vuol dire ampolloso e vuoto mentre il retorico è l'arte del parlare. Quando Don Marco faceva riferimento a situazioni americane è perché la retorica di Quintiliano l'hanno tradotta in inglese ed è proprio dal mondo americano dei manager d'industria che sta ritornando. I manuali di retorica l'arte del parlare in pubblico è la traduzione di Quintiliano l'Ars retorica e noi traduciamo dall'inglese questi nuovi manuali. Nel mondo anglosassone la Chiesa ha già introdotto questo criterio a noi manca ancora noi oggi non avremmo nessuno in tutte le nostre facoltà ecclesiastiche in grado di parlare di retorica non esiste un insegnante di retorica in tutte le nostre università si studia la retorica antica per leggere San Paolo ad esempio per strutturare quelle sue lettere ma non esiste ormai da parecchi decenni un insegnamento di retorica di arte del parlare ed è questo che ha creato dei problemi non ci siamo ancora arrivati a comprendere che il problema c'è perché è vero che l'omelia deve essere fatta da tutti ma nessuno ha preparato i preti a parlare in pubblico e non ci sono testi che possano aiutare mentre questo è un elemento importantissimo perché il servizio serva altrimenti è inutile diceva qualcuno di voi prima che il suo vecchio parroco alla prima messa gli ha detto tranquillo di quello che vuoi tanto non ti ascoltano se partiamo da un'idea del genere tanto non serve a niente è finita dobbiamo invece partire dall'idea di una comunicazione che sia efficace dobbiamo farci dobbiamo pensare ad una nuova docenza di retorica e ripartire da zero è difficile però sarà necessario studiare dei metodi proprio nei nostri seminari per formare i predicatori arrivando a qualche indicazione concreta parto da una frase del Siracide un proverbio emblematico compendia il tuo discorso molte cose in poche parole il discorso deve essere compendiato deve essere pensato deve essere ridotto a poche parole perché possa essere efficace basilare e non banale è pronunciare bene per essere compresi da tutti ancora la presenza di preti di altre lingue e di altre culture rende attuale questo problema ma anche noi di madrelingua italiana rischiamo di avere una pronuncia non comprensibile un cattivo uso del microfono il modo di parlare è fondamentale troppo veloce troppo adagio troppo acuto troppo sottovoce sono atteggiamenti nel parlato normale che impediscono l'ascolto e sono elementi che invece devono essere studiati dalla retorica impariamo alcuni elementi fondamentali in una omelia liturgica è indispensabile avere una idea se ne avete una siete fortunati non pensate di averne tante e questo dovrebbe essere il criterio fondamentale primario per la preparazione di un'omelia che cosa volete dire alla vostra gente dopo aver letto il testo in sé e meditato per voi una idea quella dovrebbe essere messa per iscritto io oggi vorrei comunicare questo scrivi una riga una frase di una riga poi verificalo chiedi a due o tre parrocchiani che hanno sentito cosa ho detto oggi se ti ripetono quella frase che tu ti eri scritto è stata efficace vuol dire che hai comunicato se ti ripetono dell'altro ritenta sarai più fortunato e prova la domenica successiva ma questi messaggi fondamentali questa idea da trasmettere è l'elemento cardine per una buona omelia e quella idea non è strampalata nata dal tuo cervello per caso ma è il risultato dello studio e della meditazione da tutto questo io ricavo un messaggio nelle letture di una domenica i messaggi sono tantissimi non posso parlare di tutto non posso fare il riassunto delle letture non posso saltare di palo in frasca devo comunicare una idea attirare l'attenzione fin dall'inizio questo è un principio di retorica fondamentale devo cominciare in modo che attiro l'attenzione altrimenti l'ascoltatore mi abbandona fate caso in qualche film dove si presenta un'omelia se si vuole presentare il predicatore noioso gli si fa dire siamo qui riuniti in questo giorno di festa per celebrare è il tipico attacco noioso che gli sceneggiatori usano per prenderci in giro con un attacco del genere gli ascoltatori fanno subito dell'altro l'attacco retorico richiede qualche cosa di interessante una frase una battuta un aneddoto è un elemento che attira l'attenzione breve dopodiché devi presentare l'idea che vuoi trasmettere e devi convincere l'intelligenza hai davanti delle persone intelligenti che però sentono tantissime altre campane sono abituate a sentire in televisione tantissimi parlatori che parlano molto meglio di noi e sentono tanti messaggi diversi dai nostri noi abbiamo da comunicarne uno e il compito del servizio è convincere l'intelligenza cioè convincere che quell'idea che trasmettiamo è buona ci vuole quindi una unità tematica e un ordine chiaro devo conquistare il cuore non devo solo parlare all'intelligenza ma devo parlare anche al cuore e qui l'immagine è fondamentale l'immagine crea un sentimento emoziona coinvolge è quello che si ricorda di più devo aiutare la memorizzazione devo strutturare in modo tale che chi mi ascolta possa seguire il mio discorso e usare dei metodi per far ricordare se quella frase che mi sta a cuore io la ripeto si fissa nella memoria non è ripetere sempre le stesse cose abbiamo sentito l'esempio della omelia di Benedetto XVI ai funerali di Giovanni Paolo II quel seguimi ripetuto è rimasto impresso a tutti quelli che l'hanno ascoltato i passaggi intermedi svaniscono ma è rimasto quello che cosa voleva comunicare in quella predica che riassunto c'è quella persona concreta durante tutta la sua vita ha obbedito al comando di Gesù seguimi questa era l'idea poi la riempita con tante parole bisogna arrivare ad un agire cristiano la conclusione deve attivare qualche cosa l'obiettivo che ci proponiamo deve essere legato ai tre ambiti fondamentali sapere saper fare saper essere allora vuoi comunicare delle nozioni dottrinali è importante anche quello allora questa domenica comunichiamo qualcosa sul sapere può interessare il saper fare ad esempio saper pregare mi è capitato in una occasione di una grande festa di spiegare il segno della croce è stata una delle prediche che ricordano di più alla festa dopo diversi anni uno dei vecchi confratelli mi dice la ringrazio che mi ha insegnato a fare il segno della croce era una vita che lo faceva non mi era sembrata una grande trovata ma dedicare una predica al segno della croce con osservazioni sulla mente sul cuore sulle braccia sulle tre persone della trinità la croce la trinità a una persona che era una vita che andava in chiesa ha aperto degli obiettivi quindi insegniamo a fare il segno della croce l'obiettivo è quello oppure saper essere l'obiettivo è un atteggiamento quale atteggiamento voglio trasmettere se io ho in testa bene questo obiettivo riesco a preparare la predica quindi sinteticamente vi suggerisco cinque tappe prima studiare e meditare bene i testi in sé è un lavoro previo riguarda me devo studiare il testo devo meditarlo seconda tappa scelgo un obiettivo preciso quello che ritengo più utile e adatto qui e adesso vi consiglierei di stare su una lettura anche se vengono proposte tante letture una o predicate su Amos i latifondisti che sfruttano i poveri o vi soffermate sul salmo benedetto il Signore che rialza il povero è il contrario oppure vi soffermate sulla lettera Timoteo voglio che preghiate per quelli che sono al governo Gesù è il mediatore l'unico fra Dio e gli uomini è un'altra cosa completamente però c'è anche quello nella lettura e quindi un anno si può anche dedicare un po' di attenzione all'unico mediatore che è Gesù è l'unica volta che si proclama quella lettura ogni tre anni hai il Vangelo dell'amministratore disonesto problematico devi scegliere come commentarlo l'evangelista stesso ci ha offerto tre piste di predicazione prima fatevi degli amici con i soldi disonesti seconda predica fedeli nel poco fedeli nel molto altro schema terza predica non potete servire a due padroni i logia aggiunti dopo sono tre omelie diverse sono tre messaggi diversi tu devi scegliere quale vuoi trasmettere uno per questo facciamo delle omelie lunghe perché non sono preparate il problema è questo che molti preti arrivano alla prima omelia della domenica senza nemmeno sapere che letture ci sono e non avendo preparato dicono di tutto se uno ha la parola facile ancora peggio perché parla di tutto senza dire niente ricordo un mio compagno più grande che diceva per scherzo mi mancheranno le idee ma non certo le parole per cui all'esame mi chiedano quel che vogliono io zitto non sto devi dare l'impressione che sai allora il guaio è questo e la nostra gente se ne accorge che stiamo parlando del più e del meno e mentre parliamo ci viene in mente un'altra cosa e ne diciamo un'altra e andiamo avanti così poi per concludere e quando diciamo per concludere è finita non sa dove arriva bisogna studiare bene da dove partire e dove arrivare quando io ho l'obiettivo fisso lo schema del discorso questo è da scrivere io sono assolutamente contrario alle omelie scritte si possono permettere in occasioni straordinarie proprio per l'emozione per l'importanza delle cose che si devono dire ma anche che tutti i vescovi leggano sempre l'omelia non ha senso l'omelia è un discorso è parlato da scrivere è lo schema l'attacco l'idea gli sviluppi se hai due o tre passaggi da fare la conclusione quello scrivitelo è un cartellino che ti dà sicurezza ma solo quei punti lì il resto ce lo metti tu dopo avere meditato fissato lo schema inizio contenuto articolato bene e conclusione progetti poi i metodi retorici che inizio accattivante scelgo con che frase parto è importante pensarla quella dobbiamo pensarla non possiamo iniziare a parlare cercando qualcosa da dire dobbiamo partire con una frase secca interessante che attiri l'attenzione poi proponi l'argomento lo sviluppi e sai dove vai a parare qual è la frase finale quella che colpisce che sarà meditata durante il silenzio perché se fate l'esperienza su voi stessi vi accorgete che quando finisce una predica la frase che ripetete nella mente è l'ultima che avete sentito e quindi l'ultima che lasciate è quella che viene meditata bisogna pensarla bene deve essere quella giusta deve essere quella adatta che aiuta a pregare che aiuta a incarnare la parola in quella realtà concreta la quinta tappa è il miglioramento è quello che suggeriva anche Don Marco chiedete ai vostri parrocchiani il ritorno e impegnatevi a fare qualcosa di meglio ogni volta trovatevi i difetti e cercate di migliorare di correggere questo alcuni suggerimenti conclusivi se è giusto che noi preti ci prepariamo per l'omelia non ha lo stesso valore per i laici non ha senso che i laici si preparino alle letture della domenica successiva la liturgia inizia la domenica e le letture proposte illuminano la settimana per cui i fedeli noi compresi siamo chiamati a meditare la parola di Dio proposta la domenica quindi è il contrario non mi preparo alla messa ma essendo andato a messa faccio tesoro di cosa ho ascoltato e per tutta la settimana ci ripenso io predicatore invece devo prepararmi abbiamo posto ai laici quello che dobbiamo fare noi una presentazione delle letture si può fare prima della prima lettura finita la colletta è previsto dall'ordinamento generale del messale romano che ci sia una munizione del celebrante che fa la sintesi cosa ascolteremo oggi continuiamo il vangelo di luca rispetto a domenica c'è un passo in avanti oggi ci parla di questo è stata scelta come prima lettura questa pagina del profeta perché ha questo messaggio il salmo è legato per questo motivo infine la seconda lettura ci parla un minuto un minuto e mezzo le ho presentate tutte nell'ordine logico dopodiché nell'omelia faccio solo un messaggio e quello spero che passi se faccio un progetto lungo l'anno ho circa 60 messaggi all'anno se passassero tutti i 60 comunico parecchio ed è importante questo chiudo con una frase di San Bernardo si sapis conca conca ex i bebis et non canalem se sei sapiente sarai una conca non un canale la conca si riempie ed ha dell'abbondanza di quel che ha il canale lascia scorrere l'acqua e quando chiudi il rubinetto il canale è sempre vuoto non dobbiamo essere canali dobbiamo essere conche ripiene della parola di Dio e da questa pienezza parlerà il nostro cuore e saremo servi efficaci della parola ve lo auguro di cuore grazie